Ambulatorio di Diabetologia del Santissimo Rosario di Venafro, qualcosa si muove, il, anzi, i diabetologi. Presto, in quel presidio ora sguarnito, le visite sono bloccate da tempo, tornerà almeno uno specialista proveniente dal Veneziale. La riattivazione del servizio entro una o due settimane. La notizia, trapelata stamane, è in attesa di conferma. Il ripristino consentirebbe di iniziare a smaltire i tempi di attesa biblici, sei mesi o più, per una visita che in realtà è cruciale ai fini di una gestione efficace dell'insidiosa patologia. Il fatto che l'ambulatorio sarà aperto non uno, così come in passato, ma per tre giorni alla settimana, un bel passo in avanti. Ma c'è di più. Allo specialista in arrivo da Esernia potrebbe affiancarsene un altro, in sostituzione di quello attualmente indisponibile. Sarebbe un passaggio decisivo nella riduzione dei tempi di attesa dei malati. Dal Comitato Santissimo Rosario, rimarcato il ruolo di impulso avuto ai fini dello sblocco di una criticità, che, laddove si fosse protratta ulteriormente, sarebbe diventata una vera e propria emergenza, con lo stesso diritto alla salute, previsto dalla Costituzione, gravemente compromesso. E in attesa di conferme, l'attesa per migliaia di diabetici, il condizionale d'obbligo, dovrebbe essere quasi finita.